Il 4 ottobre è la giornata mondiale degli animali. Già egizi, greci e antichi romani raffigurano gli animali con rigore scientifico e attenzione naturalistica. In epoca medievale gli animali entrano nel mondo dell'arte attraverso miniature e bestiari ricchi di draghi o mostri. I viaggi di Cristoforo Colombo e dopo qualche secolo le scoperte scientifiche di Charles Darwin favoriscono enormemente la rappresentazione del mondo animale. Nella pittura sono tantissimi gli animali raffigurati nei secoli. Io personalmente ho scelto quattro modi di interpretarli. Una raffigurazione che mi colpisce da sempre è quella dei bisonti nella grotta di Altamira. Risalenti al paleolitico questi animali sono tuttora visibili e sono stati realizzati usando pigmenti derivati da carbone vegetale, terra d'ocra ed ematite. Il colore è stato distribuito sulla roccia grazie a rametti o ciuffi di peli. Inoltre gli artisti utilizzarono le asperità della superficie rocciosa per creare gli effetti di rilievo. Se ai tempi della preistoria gli animali erano ritratti col puro scopo raffigurativo, secoli dopo vengono riprodotti con significati simbolici. Ad esempio la dama dell'ermellino di Leonardo, del 1490 circa, è considerato il primo ritratto con impostazione moderna perché scardina la staticità dei ritratti dell'epoca. La dama in questione è Cecilia Gallerani, l'amante di Ludovico il Moro, e l'ermellino, che in realtà è un furetto, è simbolo di integrità e purezza. Cecilia e il furetto sono affini, vanno in parallelo, gli sguardi si somigliano e sono girati nella stessa direzione. L'anatomia dell'animale è perfetta e prevale l'eleganza sull'aspetto selvatico. Contemporaneo a Leonardo è Hieronymus Bosch, con il suo giardino delle delizie condanna la lussuria. Qui gli animali non sono solo selvatici ma anche grotteschi e interagiscono attivamente con gli umani raffigurati. L'opera in questo caso reca un messaggio morale e gli animali servono da veicolo simbolico per comunicare questo concetto allo spettatore. Più recentemente nell'ambiente delle corti reali, per esempio, l'animale accompagna i nobili e spesso questi ultimi sono ritratti assieme ai loro cani da compagnia. Non erano rari, sempre a corte, ritratti di animali esotici. Altri animali, i quali cavalli e volpi sono raffigurati nelle scene di caccia. In questo caso il loro utilizzo è utile per descrivere le abitudini di un certo ceto sociale. Il cavallo in particolare è spesso un supporto, se non addirittura un alter ego dell'imperatore, che si pone come simbolo di forza e di potere. È chiaro che la mia selezione è molto 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 limitata, però mi piacerebbe sapere quale di queste raffigurazioni preferite. Io personalmente amo molto i bisogni di Altamira, perché mi emozionano, perché sembrano azzerare la distanza temporale tra la preistoria e il presente. E a voi che cosa piace? Se avete voglia scrivetemelo qua sotto nei commenti e intanto buona giornata internazionale degli animali! Grazie a tutti!